segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ti voglio chiedere vittorio come vedi queste polemiche su sulla russa i musicisti della scala che non gli vogliono stringere la mano poi mi sembra una stupidaggine anche perché la russa non può essere fascista perché sarebbe l'unico in italia e quindi non costituirebbe in ogni caso un pericolo io sono diciamo favorevole a parlare di antifascismo a livello storico però essere antifascisti oggi che il fascismo è morto e sepporto da 70 anni mi sembra anche un po ridicolo